Uno scambio di battute eccessivo e forse qualche bicchiere di troppo, è bastato questo per far scattare una rissa sabato a notte a Trani in via Malcangi nei pressi di un locale. Protagonisti della lite alcuni cittadini italiani e rumeni presenti all'esterno di un bar. Secondo quanto ricostruito la rissa sarebbe scattata per futili motivi legati a qualche parola di troppo, l'effetto dell'alcol poi ha fatto scattare la scintilla. In breve tempo si è passati dalle parole ai fatti e subito dopo è spuntato anche un coltello. Uno dei baristi dell'attività è intervenuto per provare a sedare la lite non appena si è accorto di quanto stava accadendo. Nel suo tentativo l'uomo è rimasto ferito al braccio destro. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri che giunti sul posto hanno evitato che potesse accadere il peggio. I militari hanno subito avviato le indagini riuscendo a risalire all'identità di tutti i partecipanti della rissa. Sono sette i soggetti bloccati dai carabinieri e poi ascoltati presso gli uffici della compagnia di Trani per accertarne le responsabilità. Al termine degli accertamenti tutti e sette sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa aggravata e lesioni personali. Intanto i militari proveranno comunque a chiarire le reali motivazioni della rissa.